Bentornate, bentornati, boys and girls Boys and girls, I'm ready to party Ma ricordate questa canzone degli anni 90? Io avevo una di queste mie goni appunto, era quella della Barbie Io le Barbie materialmente purtroppo non ce l'ho più una perché so grande ormai E due perché mia madre me le ha buttate E tre perché quando è nata mia sorella le ha tutte quante mozzate e mutilate Nonché le ha fatto i caschetti A tutta a prescindere Quindi per me è stato un trauma, io sono andata dallo psicologo Blah 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 Ora vi spiego in 30 secondi cosa vuol dire Ma intanto mi metto un braccio, un ciccio bello Ma io vi garantisco che una me la compro eh Io una Barbie me la compro Sì sì, la compro, la metto là sul comodino Sì Adesso faccio un make up un po' barbesco Chiaramente Barbie rivisitata in chiave moderna Sto personalizzatelo e andateci dove volete Ok Magari No, fa spesa a comprare bagnotte sotto casa Vi mando un solito big 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 bacio Anche da Carolina Dallo studio è tutto No, fa spesa a comprare bagnotte sotto casa